Ora la cronaca, tragedia sfiorata questa mattina sul raccordo autostradale Chieti-Pescara all'altezza dell'aeroporto. Un'auto che procedeva contromano si è scontrata con un furgone, tre persone sono rimaste ferite, il traffico ha subito pesanti rallentamenti. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata, sul posto sono giunti i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. Per regolare il traffico ed effettuare i rilievi sono giunti anche gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell'ANAS. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Pescara per estrarre il conducente dell'auto a causa delle lamiere contorte.